Nel sud del mar dei Caraibi, di fronte alle coste di Colombia e Panama, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.6 alle 5.05, secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dal Servizio di Monitoraggio Geologico degli Stati Uniti, il sisma si è verificato a una profondità di 10 km con epicentro situato circa 50 km a largo della terraferma nord-est di Panama. Successivamente, circa 10 minuti dopo il primo terremoto, si è verificata una scossa di assessamento di magnitudo 4.9. Al momento non sono state riportate informazioni su feriti o danni nelle aree circostanti che non sono densamente popolate. Grazie!